E la 19enne Beatrice Savignani di Terni, una ragazza per il cinema 2023, che dedica la vittoria alla sua famiglia e in particolare a nonna Rosanna. Diplomata a giugno al liceo classico, indirizzo arte, musica e spettacolo, ha la passione per la recitazione, che potrà approfondire grazie a una borsa di studio donata lei dalla Casa dell'Attore, diretta da Giulio Manfredonia e da Maria Rosaria Russo. Beatrice ha l'hobby dell'equitazione ed è stata premiata dalla madrina della 25esima edizione di una ragazza per il cinema, Ornella Muti, e da Daniela Eramo, che da 35 anni organizza, insieme ad Antonio Lopresti, la Kermesse nazionale. Seconda classificata, Meni Sorbello, premiata da Carima, e al terzo posto, Fernanda Carvaglio, premiata da Garrison Rochelle. Devo ancora realizzare questa grande e forte emozione in realtà, però è una grande responsabilità e sono pronta ad affrontare tutto questo con grande grinta e grande forza. Inoltre non vedo l'ora di iniziare il mio percorso con la mia borsa di studio grazie a questa grande opportunità che ho avuto e nulla, l'emozione è veramente indescrivibile a parole. La dedico alla mia famiglia in generale, ma soprattutto a mia nonna, infatti la saluto e le mando un grande bacio. Ciao nonna! Volevo ringraziare innanzitutto tutta la mia famiglia, come ho già detto, per avermi sopportato sotto questo aspetto, in questa esperienza che è stata veramente travolgente dall'inizio alla fine al 100%. Quello che mi porto dietro sicuramente è un bagaglio culturale, il mio bagaglio culturale più arricchito, più pieno, anche di emozioni, dalle più grandi alle più piccole, dai momenti di paura, dai momenti di incertezza, ma sto facendo la cosa giusta, sto facendo le cose come devono essere fatte. Quindi anche questo mettersi in gioco sotto tanti punti di vista, perché come ho detto non avevo una grande esperienza in questo campo e quindi è stato proprio un gioco, un mettersi in gioco a 360 gradi appunto. E così Serena Caredda, eletta nel 2022 dopo un anno straordinario, lascia il posto alla neoeletta Beatrice Savignani. Sul palcoscenico del Teatro Antico di Taormina, le 81 finaliste nazionali hanno sfilato e danzato sulle coreografie curate da Garrison, mostrando la loro bellezza e bravura. Tanto spettacolo in questa finale 2023 condotta da Adriana Volpe e Beppe Convertini, con la comicità di Paolo Migone, la splendida voce di Carima e altri apprezzatissimi ospiti e artisti.